Fasina, ti piace il banchino che hanno dato a scuola? Carino, Finocchio! Lo sai, c'è anche le roselle. E poi? E c'è un banchino di panocchi. Eh, ti piace? Dai, Fasina, Fasina. Signora, indovina l'ortaggio. Va bene, Finocchio. Allora, qual è quella verdura che quando saluta dice Ave Cesare? Salva, Salva! Bravo! Qual è quella verdura che al bar dice sempre, prima lei? Salva, sono gentile. Bravo! Dai, 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 dai. Fammi un'alto, dai, dai, sono tutte. Via, ora basta, Finocchio, dai. No, dai, 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 dai. Va bene. Cavolo a Puccio, cavolo a Puccio, cavolo a Puccio, cavolo a Puccio. Ma se non ti ho fatto ancora la domanda. La Puccio l'ho fatta, la sappiamo, la Puccio. Non, dai, sì, da... Quasi, sono stati originali prima... Ovviamente non io traction, buono... ma è leg